Non è vero che a me preoccupa la comunicazione, anzi, l'osservo, mi piace. Cosa sto pensando in questo momento? Che le mie due dimensioni, spazio e tempo, hanno dei limiti. La dimensione temporale è limitata dal countdown che mi sta segnando il tempo che ho a disposizione. La disposizione, invece, di questo cerchio ai miei piedi è il limite della mia dimensione spaziale. Non posso travalicare il limite di questo cerchio rosso. Perché? Perché uscirei dal fuoco delle telecamere e quindi perderei un'occasione unica di lasciare un momento epico della mia esistenza che sicuramente mi sopravviverà. Quindi, in questi 15 minuti, io sto lasciando qualcosa all'umanità. Sto realizzando la mia epica individuale, in un luogo privilegiato, senza altro, senza dubbio, per una storia personale, per una professione, per una serie di botte di fortuna, di infamità. Ho iniziato a fare il giornalista con una finta raccomandazione di uno zio arcivesco che non ho mai avuto. Ma era l'unica maniera che si aveva per poter cercare di ambire, avalcare i confini dell'azienda pubblica dove c'era quel cavallo morente. Detto questo, vorrei sfatare innanzitutto quello che è un luogo comune, che viviamo nell'epoca della comunicazione. No, non è affatto vero. Non è la cifra fondamentale dell'epoca in cui viviamo quella che noi comunichiamo. Noi non stiamo comunicando. In realtà ci stiamo semplicemente addestrando a quella che è una fase inconsapevole della nostra evoluzione. Cerco di essere più chiaro. Noi più o meno, i miei dati sono del tutto imprecisi, ma faccio il giornalista perché amo l'imprecisione, sennò farei lo scienziato. Abbiamo più o meno cominciato a camminare eretti 20 milioni di anni fa. Poi abbiamo impiegato altri dai 15 ai 17 milioni di anni per diventare uomini a tutti gli effetti. E qual è stato il segno della nostra evoluzione? Perché noi siamo state una specie privilegiata, perché stiamo qui noi a parlare dentro un anfiteatro, abbiamo pensieri complessi. Per un banalissimo episodio che ci ha spuntato il pollice opponibile. L'inizio della nostra evoluzione è questo pollice, che io possa far così, possa schioccare le dita, possa avvitare un bullone, possa trasformare la mia mano in utensile, quindi cambiare il mondo attorno a me. Una semplice evoluzione, il pollice opponibile ci rende quello che siamo. Abbiamo cominciato quindi a trasformare il mondo. Avendo il pollice opponibile cambiavamo il mondo. Siamo diventati veramente gli architetti dell'universo, come dicono i massoni, ma lo siamo a tutti gli effetti perché non ci siamo accontentati di cambiare il mondo fisico. Abbiamo cominciato anche a costruirci un fantastico mondo metafisico, bellissimo. E anche in questo noi siamo stati molto bravi, abbiamo sempre immaginato come abbiamo cominciato a costruire delle macchine, abbiamo cominciato a costruire delle macchine che cambiassero il mondo, la ruota, la leva, poi andando avanti fino a arrivare che ne so, alla vita senza fine, al cardano, tutti gli attrezzi che ci siamo inventati, che hanno costruito la tecnologia, abbiamo cambiato il nostro mondo. Non abbiamo cambiato soltanto il nostro mondo, ma anche il nostro mondo delle idee. Abbiamo cominciato a costruirci delle fantastiche architetture per dare possibilità di visualizzare o di appoggiare quello che erano i nostri stati interiori, perché abbiamo cominciato a acquisire una sensibilità. Quindi ci siamo costruiti degli universi, delle cosmogonie, abbiamo cominciato a pensare gli dèi, abbiamo cominciato a costruire degli idoli, degli idoli che ci somigliassero, fossero le nostre metafore, degli idoli che parlavano e quindi davano a noi la possibilità di vedere rappresentato, allucinato, quello che noi pensavamo di essere. Questo fa sempre parte del nostro cammino evolutivo. Noi in questo momento però stiamo compiendo in maniera forse inconsapevole, in circa una ventina d'anni, un santo evolutivo altrettanto potente per noi come è stato quello che in 17 milioni di anni ci ha dato il pollice opponibile. E' quello di aver iniziato a pensare l'idea che noi potessimo avere delle protesi emotive che in qualche maniera andassero oltre quelle che erano i limiti dei nostri sensi. Ho un po' sorriso quando qualcuno ha detto prima che iniziassimo noi, spegnete i cellulari, come dire, come spegnere quello che noi abbiamo a disposizione oggi per osservare a tempo reale la nostra evoluzione. Noi stiamo cercando la stessa maniera in cui abbiamo cominciato a cambiare il mondo, a cambiare anche la nostra sensibilità, a cambiare la nostra percezione degli altri esseri umani, della nostra dimensione spazio-temporale, proprio attraverso questo oggetto che ognuno di voi ha. Il fatto che ognuno di voi ne abbia uno in tasca significa che ormai è una protesi irrinunciabile. E soltanto per un mero arcaismo, ancora noi mese dopo mese vediamo il nuovo modello di smartphone, ci fermiamo rispetto a quello che è l'hardware, quello che è l'esterno di questo oggetto, in realtà è la sua essenza. La nostra evoluzione sarà completa in questa fase quando noi avremo incorporata questa possibilità ulteriore di avere degli spazi più ampi rispetto a quelli limitati dei nostri sensi, come questo cerchio rosso, come quel countdown che segna che mancano 9 minuti e 18 secondi alla fine. Questo significa che dobbiamo vedere, osservare, essere consapevoli che il mondo che stiamo vivendo è un mondo che sta registrando il nostro cambiamento, perché noi stiamo cambiando. Come noi siamo cambiati con il pollice opponibile, abbiamo cominciato a cambiare il nostro mondo, noi stiamo cambiando con questa nostra percezione che comunque abbiamo una nuova maniera per gestire la socialità. La socialità significa esperienza, il nostro cervello muta, cambia con la relazione con gli altri. Una volta un'amica mia, una scienziata, mi ha detto io ti cambio, cambio qualcosa di te, mi tocca una mano con le unghie, dice in questo momento le tue sinapsi sono composte in una certa maniera, quindi ti ho cambiato il cervello, tu hai un cambiamento fisico soltanto per una carezza. Figuriamo quanto cambiamo e quanto stiamo cambiando dallo stress che non eravamo abituati a gestire, di avere 20-30 mila contatti in un social network, di avere il database organizzato di tutte le nostre relazioni, di non avere più una gerarchia di relazioni se non un ordine alfabetico di relazioni che noi gestiamo. Questo è fantastico, questo cambierà il mondo, questo muterà il mondo. A tendere noi riusciremo a incorporare questa facoltà, è come questi occhiali che in realtà sono una protesi, senza occhiali comincio a vedere sfocato dalla prima fila in poi, quindi ho una protesi per acquire il mio senso della vista, non mi basterebbe la vista per gestire 900 persone, ma quando mai si è posto un uomo il problema di guardare in faccia 900 persone? Non ho possibilità fisiche legate ai miei sensi di gestire i 50 mila contatti che magari ho nel mio social network, quindi ho bisogno di una protesi. Questa protesi alla fine mi comincia a pesare il fatto che sia un oggetto che lo tenere fuori dal mio corpo, lo vorrò dentro. Quella che era la fantastica anticipazione di alcuni performer di body art negli anni 70 come Stelarc, che si mangiava dei piccoli meccanismi dicendo il corpo umano è pieno di zone vuote, bisogna riprogettare il corpo umano. Ma noi stiamo riprogettando il corpo umano, noi stiamo dando corpo a una nuova dinastia di esseri umani, anche cambiando le fattezze fisiche. Le nostre dimensioni corporee, la nostra espressione mutava secondo dell'uso che facevamo dell'ambiente, camminavamo tanto, ci erano delle gambe lunghe e affusolate, stiamo molto seduti, diventiamo sedentari, ci viene la gastrite. Ma artificialmente abbiamo capito che può essere cambiato, ma figuriamoci. Non c'è più il tabù, diciamo, dell'incorporamento di oggetti estrani, la tecnologia che entra nel nostro corpo. Ma che male c'è? Mi fa male un ginocchio, mi dicono ma tra qualche anno metterai una protesi. Sì, metterò una cosa al vanadio qua, e chi se ne importa? Mi rischia di scoppiare il cuore, metteranno un po' di valvole. Siamo abituati, ma siamo abituati non soltanto dell'avanguarda del nostro pensiero, tutti sono abituati. Una persona anziana sa che se ha un problema cardiaco, gli mettono dei bypass, delle valvoline e continua a vivere, quindi è già superato il tabù. Non esiste più una differenza tra organico e inorganico, anzi l'inorganico entra tranquillamente a far parte del nostro corpo, della nostra esperienza. Ci sono anche altre mutazioni però, mutazioni che in realtà avvengono proprio per usi sociali. Un'altra importante mutazione che abbiamo avuto è la perdita del baculum. Il baculum è l'osso penico, che una volta era importante perché avevamo poligami, c'erano tante donne e ci serviva un attrezzo sempre a disposizione. Poi siamo diventati monogami, abbiamo cambiato le nostre abitudini e mi pare che un milione e mezzo di anni fa abbiamo perso il baculum, lo mantengono alcuni primati, l'uomo non ce l'ha più. Quindi un uso sociale ha cambiato il nostro corpo. E perché non dovrebbe cambiare il nostro corpo un uso sociale come quello di avere la nostra possibilità di relazionarci allargata? Questo ha sempre appassionato, diciamo, i miei ultimi anni di attenzione. Per tanti anni ho osservato la televisione. Il mio compito era, appunto, come la persona che mi ha introdotto, di fare il mass-mediologo, un termine che mi è sempre sembrato odioso. Anche perché avevo l'impressione di osservare una realtà transeunte, che non era possibile codificarla in un sistema scientifico. La comunicazione. Noi cambiamo continuamente, non puoi dire cosa sia la comunicazione. Quando nacquero le prime facoltà di scienza alla comunicazione ridevo, ma scienza di che? E questi studiavano televisione, i soloni spiegavano cos'è la televisione. La televisione oggi non esiste più. Quando l'osservavo io una decina d'anni fa, già dicevo sì, è un medium, ma perché è un medium? È un medium nell'accezione primaria di questo termine. È un evocatore di realtà fantasmatiche. La televisione non è importante, non ci fa vedere nulla, non ci ha fatto evolvere. Non è l'oggetto che cambierà la nostra vita. Lasciatelo dire quello alle vestali che ogni giorno si strappano i capelli e dicono ah, come cambia il mondo, la cattiva televisione, la buona televisione. Non esiste roba passata. È un medium. È servito per un certo periodo a farci vedere una realtà di oltretomba in cui tutti ambivamo ad entrare. Era l'addestratore alla concezione e alla percezione della protesi emotiva. La televisione altro non ha fatto poi alla fine che osservare l'umanità e non inventarsi più nulla. La televisione non è più assimilabile a una realtà come la poesia, la narrativa. No, per la televisione oggi, la televisione generalista parlo, la televisione dei telefilm è un'altra cosa. È una trasposizione al teatro, il teatro a casa. La televisione ha fatto altro che osservare la realtà e cominciare a dimostrare che le persone che la guardavano diventavano all'interno del suo spettacolo. Benissimo. Tutto questo l'ho fatto una parte importante della mia vita. Quindi osservavo la comunicazione, osservavo i mezzi di comunicazione, dicevo, ma abbiamo queste protesi emotive incorporate dentro di noi, che bello, comunicheremo tanto, voglio studiare, capire, immaginare, voglio essere avanti rispetto agli altri, capire che sarebbe successo il giorno dopo. Poi, poi improvvisamente nella mia vita è accaduto che mi è nato un figlio autistico, perlomeno ho avuto la percezione di avere un figlio autistico, un essere umano che ha un problema di comunicazione. La totale incommunicabilità o la radicale incommunicabilità. Che devo fare a quel punto lì? Avevo due strade, una è quella che la maggior parte è me delle famiglie che hanno un ragazzo autistico fanno, in Italia sono tante, perché statisticamente ormai nasce un autistico ogni 100 bambini, quindi qualcosa sta cambiando comunque. Ho cominciato a osservare il mondo visto una persona che non comunicava e ho capito qualcosa di fondamentale in realtà. Noi ci stiamo evolvendo e le persone che non comunicano non sono altro che l'anticipazione della nostra fase futura dell'evoluzione. E stranamente su queste persone si è creata una sorta di guerra di religione. Oggi l'autismo, la neurodiversità è al centro di una sorta di nuovo movimento di rivolta. Cosa fate ai nostri bambini? Li vaccinate, li fate diventare tutti autistici? Dio mio, che succederà? Non comunicheranno più, ci togliete questa facoltà fantastica che tutti noi possiamo esprimere in opinione. Abbiamo uno smartphone e nel social network, anche se siamo radicalmente degli analfabeti funzionali, possiamo dire quello che vogliamo. Quindi la paura è che quella che viene considerato la nuova frontiera del potere ottuso e assoluto, che è la scienza, quella modesta cosa che ci ha fatto evolvere, che fa sì che voi state qua in buona salute, che ci sono delle luci, che io posso parlare, che lascerò questa fetta della mia vita in un luogo dove potrà continuare a parlare quando io anche non ci sarò più, è diventato il grande spauracchio. E l'oggetto e lo spauracchio sono proprio i bambini. Ci fate morire i nostri bambini. Ma guardate che c'è sempre stata una paura verso quelli che mangiavano i bambini, le prime pregiudizie verso gli ebrei che loro ammazzassero i bambini per berne il sangue e fare dei loro rituali. E ho cominciato a studiare la non comunicazione. E ho cominciato a spiegare a queste persone che non è che ci sono delle cause esterne, dei cattivi che avvelenano i vostri bambini o avvelenano voi con i vaccini, con un'infinità di altre cose. No, i nostri figli sono così perché noi siamo così. Ce li abbiamo già noi dentro il nostro patrimonio genetico. Per fare questo e dimostrare questo cosa ho fatto? Ho passato due mesi della mia vita a farmi diagnosticare la percentuale che ho di autismo. E ho una forte percentuale di autismo che riesco a gestire. Sono autistico fortemente autistico. Quindi in me già vedo la possibilità di questa nuova evoluzione. Quale sarà la nuova società? La società degli autistici? Non saranno persone che comunicheranno. Avranno una comunicazione diversa, più selettiva. Abbandoneranno alcuni cascami che in questo momento limitano la nostra esistenza, l'emotività, la personalità, la famiglia, tutte queste cose. Certo, c'è un lato in questo abbastanza negativo proprio riguardo appunto alla delimitazione del proprio tempo, alla sopravvivenza. La mia vera angoscia è che avrò un figlio che mi sopravviverà. E questo sembra paradossale, ma non ci dormo la notte. È assolutamente contro natura avere paura di un figlio che sopravvive. Perché? Perché avrò un figlio con un cervello diverso, in una società che dà come valore soltanto il cervello omologato. E quindi quello che riuscirò a fare in questo lasso di tempo, da quando uscirò da questo cerchio che delimita il mio spazio e quando arriverà a zero il timer che delimita il mio tempo, e cercare il più possibile di lanciare l'orgoglio per i cervelli diversi. Il mio sarà un coming out. Io ho un cervello diverso, sono matto. E allora cos'è? La nuova società sarà fatta di matti come me. Sarà una società diversa, molto più leggera, meno legata alle tradizioni, alle convenzioni, alle paure, alle superstizioni. Sarà più efficiente. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie.